so I've got a dream that I'm gonna be at the top of the scene I'm never era un professionale, io ero in Perù, un piccolo, e io ero in questa seconda categoria. Aveva fatto una amichevole con noi contro la squadra della Bocconi, no? Bravo, e lui? Very good player, zero. Sato, mi giochi a sinistra, mi sento qua. C'è qualcuno in tribuna, vedete? Dai ragazzi, lo spugniamo sto campetto, dove cazzo siamo? E' pure il campo bello, quindi dai, giochiamo. Abbiamo pure il fotografo bello. Il fotografo che sempre con noi, cazzo. Grazie a lui, ci seguono tanti inglesi. E' il mano così. E' il mano così. Lo so, è tutto. He culture acceleranti solo per prendere. Ciao, no, invece, ci, sinistre appena назад. In quanto milione sa performe? Dai, 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 dai. Ma guarda l ninth. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti.